Questa sera insieme a Sofia e Raffaella e insieme a Mammina che cercherà di tenerci buoni cercheremo di fare l'albero di Natale, vero Sofì? Cercheremo di fare tutti insieme l'albero di Natale Riusciranno i nostri eroi a fare questo albero di Natale 2016 per poi arrivare tutto intatto al 2017 Da questo momento, da questo momento, a lavorare via Come si mangia una persona? No! 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 All I want for Christmas Ah, yes